Allora, questa è una notizia ANSA. C'è una grande foto con delle studentesse che hanno affisso un grande manifesto fuori dalla porta della loro classe. Su questo manifesto è scritto «Non è colpa nostra se gli cade l'occhio». L'articolo si intitola «Scuola, protesta per la minigonna al liceo». Azzolina chiede chiarimenti. Il Ministero dell'Istruzione, tramite l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, ha chiesto un approfondimento sulla vicenda relativa al liceo Socrate di Roma, nella quale la vicepreside avrebbe invitato le alunne a non indossare abiti succinti. I banchi, infatti, sono stati tolti per rispettare il distanziamento sia attesa dell'arrivo di quelli in monoposto. Le goni troppo corte, secondo la docente, attirerebbero gli sguardi dei professori. L'osservazione non sarebbe però piaciuta alle studentesse che oggi si sono presentate in massa e in gona e hanno affisso cartelli di denuncia contro il sessismo. Continua l'articolo. Questo è solo l'inizio, è un articolo lunghissimo. È tutto surreale. È troppo surreale, ma stiamo dormendo. Siete svegli voi in questo momento? Io forse sto sognando di registrare un video. Qui ci stanno i nostri ragazzi che registrano anidride carbonica per ore in alcune scuole. I banchi che non arrivano. Nella nostra scuola sono arrivati con tutte le vite lente e è toccato a noi prendere le cacciavite e avvitare tutte le vite banco per banco, se no ai bambini si sarebbero potuti far male. E questi incapaci di che si occupano? Con i nuovi banchi i professori potrebbero guardare le cosce degli alunne. è bene che non vengano con gonne corte, ma siete proprio pazzi. Siete proprio pazzi. Va bene, cari amiche e cari amici. Che ci volete fare? Noi stiamo vivendo in questo tipo di situazione. Veramente surreale. Non si sa se ridere o se piangere. Mi raccomando, un bel no al taglio dei parlamentari. Questa è una cosa assolutamente dovuta. Cerchiamo di ostacolare questi e di vendicarci per quanto possiamo di 5 stelle. Anche se io non li ho votati, invitavo a non votarli e mi sono beccato un sacco di insulti quando invitavo a non votarli. Va bene, cari amici e cari amici. Con questa ennesima follia si conclude il video. A presto. Ciao.